50 destra 2 più 50 sinistra 4 meno 50 adesso sinistra 3 in una lega straight di destra 2 più e sinistra 3 e sinistra 3 più legato 50 al palo a destra 2 50 sinistra 3 meno in destra 2 giralunga chiude e sinistra 4 in destra 3 meno legato in sinistra 3 meno meno 50 destra veloce 50 al palo a destra 3 meno chiude vai 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 qui meno chiude 70 sinistra veloce 70 destra 4 meno meno 70 sinistra 2 più e sinistra 2 più per accenno destro insista veloce lunga 70 destra 3 meno lunga apre apre eh 100 e sinistra 2 meno e sinistra 2 meno gira lunga chiude gira chiude anzi e destra 2 gira 70 senza terzi seconda meno gira eh senza terzi seconda meno gira lunga chiude 70 destra 4 subito sinistra 3 meno meno e destra 3 più per accenno destro 50 destra 4 meno legato subito sinistra 2 chiude e destra 4 per accenno destro subito destra 3 più subito sinistra 2 più e destra 2 più lunga per accenno destro 2 tempi lungo 50 sinistra veloce 50 destra 4 meno meno per accenno destro e sinistra veloce legato 70 a vista al muro accenno sinistra lungo legato al resto sinistra 2 più gira 2 tempi 100 a vista destra 4 meno meno 100 accenno destro subito destra 2 meno chiude 100 accenno destro subito destra 2 meno chiude e sinistra 2 più per accenno destro lungo 2 tempi 100 a vista accenno destro per arrede destra 3 chiude 2 dopo 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 vai arrede destra 3 chiude 2 per si sta veloce per destra veloce 70 sinistra 2 più e destra 3 per destra veloce legato 2 tempi vai 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 destra 4 supero sinistra 2 più destra 4 supero sinistra 2 più allarga 3 per destra veloce in destra 3 chiude 2 più in sinistra 2 meno 70 accenno destro per accenno sinistro in destra 4 meno legato per si sta veloce in destra 4 per accenno sinistro per destra 4 meno in destra veloce 50 destra veloce 200 a vista sinistra 3 meno e in destra 4 e in destra 4 in destra 3 più 50 accenno destro 100 destra veloce in sinistra 4 meno meno 100 accenno sinistro legato 70 destra 3 più e accenno destro 70 sinistra 4 150 al re sinistra 2 allarga e stringi 50 destra 2 più allarga e stringi 50 sinistra 2 allarga e stringi dai dai per accenno destro 70 al re destra 3 meno 70 destra veloce lunga in destra 3 più chiude chiude subito sinistra 2 più subito sinistra 2 più 50 sinistra 4 per accenno sinistro per accenno sinistro per accenno sinistro accenno a vista accenno destro destra 4 meno 50 sinistra 3 meno allarga e stringi 70 accenno destro 70 ai cartelli in versione destra 100 su dosso 50 50 accenno sinistro 50 destra 4 meno per accenno destro subito destra 2 per accenno sinistro in sinistra 4 meno 200 200 a vista alle canne accenno sinistro in destra 4 meno 70 sinistra veloce legato sconnessa in destra 3 meno meno 70 al re sinistra 2 cera lunga 50 sinistra veloce per accenno destro e accenno destro accenno a vista al re in destra 4 meno 50 sinistra 1 cera e in destra 3 più per sinistra 3 più legato 70 in destra 1 cera 70 accenno destro in sinistra 1 cera 70 accenno sinistro 50 destra 1 cera allarga 100 a vista destra 4 70 sinistra 4 meno 70 attenzione sull'osso sinistra 4 meno legato e sporca 100 a vista accenno destro 50 accenno destro 50 sinistra veloce 70 sinistra 3 meno 3 meno e sinistra 4 70 resta 3 più legato sporca non è sporca anzi resta 4 legato 70 al re sinistra 2 meno cera per per accenno destro destra 4 meno 50 destra 4 200 200 a vista dosso 70 70 vai dosso 70 destra 1 cera è anche quella perché siamo c'erterno 50 accenno sinistro 150 a vista attenzione sinistra 1 gira attenzione cartelli sinistra 1 gira 70 accenno destro per accenno sinistro in destra 1 gira 100 a vista sinistra 4 meno sul dosso sconnessa subito sinistra 2 cera chiude subito sinistra 2 cera chiude e destra 3 più 70 sinistra 4 due tempi subito destra 2 più subito destra 2 più e sinistra veloce in destra 4 meno 100 sinistra 4 meno subito scalino destra 2 meno e sinistra 4 meno 70 sinistra 4 100 destra 3 più 100 destra 1 gira c'è bastardo di dunia subito subito alai Grazie.